Gentili telespettatori, buona giornata. Il capo politico, chiamiamolo segretario del Partito Democratico, è spaventato continuamente da Di Maio, perché Di Maio di nuovo sta cominciando a sbattere i pugni sui tavoli, anche perché Beppe Grillo lo ha legittimato davanti a tutti, Movimento e altri partiti, dicendo che è lui il leader, non si discute, è insostituibile, anche perché senza di lui va tutto a quarte 48, quindi Di Maio non rompete le palle e lui il leader, quindi lui rinfrancato e per la prima volta legittimato dal suo capo di Grillo, perché voi dite perché il suo capo? Perché Grillo è l'unico che può destituire Di Maio, l'altra possibilità è che Di Maio dia le dimissioni, non ce ne sono altre, quindi lui Grillo ha blindato Di Maio, ma Di Maio adesso deve, secondo Grillo, guardare a sinistra, però deve guardare a sinistra e sbattere i pugni per le sue idee e le idee del partito, del movimento, quindi è un po' difficile adesso guardare a sinistra al suo unico amico, come dice Grillo, guarda che il tuo unico amico è Zingaretti, è difficile guardare l'unico amico Zingaretti che parla di Jussoli, che parla di tante cose di quel tipo, con le idee basiche del movimento, quindi sbattere i pugni guardando l'amico unico, e però Zingaretti è abbastanza spaventato da questo atteggiamento, dice Di Maio vuol rompere, falsartare il governo e tornare in braccio a Salvini, l'accusa rimbalza nei piani alti del Nazareno e a Montecitorio, mentre si susseguono i segnali di guerriglia nella maggioranza, lo scontro sulla prescrizione, la spaccatura sul voto sulla commissione von der Leyen, gli attacchi agli esponenti grillini al PD, la candidatura contrapposta nelle regioni, queste sono alcune cose, la finanziaria, eccetera, eccetera, lo Jussoli, sì, no, non c'è nel programma, adesso ce lo mettiamo, quindi, e poi soprattutto la paura, trapelata in diversi giornali, che da paura che ha il PD, che Di Maio abbia segretamente un accordo con Salvini, infatti la Meloni, attenzione, la Meloni ha detto, Salvini mi raccomando, eh, mai col PD, mai più coi 5 stelle, e Salvini ha dato questa risposta, e con questa risposta voi capite tutto, senza che io vi faccia un commento, Salvini ha risposto alla Meloni, certo, mai coi 5 stelle quando sono col PD, avete capito la risposta di Salvini qual è stata? Mai coi 5 stelle quando sono col PD, non ha detto, certo Meloni, mai coi 5 stelle, mai coi 5 stelle quando sono col PD, e questo è un messaggio a Luigi Di Maio, perché se sono veramente d'accordo che quando cade il governo riparlano di fare nuovamente un governo insieme, anche perché c'è da dire che Salvini preferirebbe Luigi Di Maio a Giorgia Meloni perché? Lui si trova meglio con Giorgia Meloni, senza dubbio l'alleato ideale è Fratelli d'Italia, però Fratelli d'Italia ha la fiamma del movimento sociale all'interno, loro sono gli eredi del movimento sociale di alleanza nazionale, quindi dei neofascisti, e Salvini dice, caspita, io che sto cercando di spostarmi il più possibile al centro, cercando di essere il più moderato possibile, facendo un'alleanza con la moderata Meloni, con un suo partito che è moderatissimo, non ha niente di male, però agli occhi dell'opinione pubblica sono gli eredi di alleanza nazionale del movimento sociale italiano fiamma tricolore, quindi capite che lui dice con Di Maio poi alla fine finisce tutto sempre a casino, però non vengono reputati dei fascisti, mentre dall'altra parte apriti cielo, già mi dicono che sono un nazionalsocialista, immaginatevi se faccio l'alleanza con Fratelli d'Italia, quindi questa sarebbe l'idea di Salvini, meglio Di Maio, con tutti i problemi che può portare, che è un'alleanza fantastica con la Meloni all'interno del governo, ma fuori nelle piazze, canteranno altro che bella ciao, si vestiranno anche da partigiani del 1940, quindi capite che si presume che Di Maio e Salvini abbiano un accordo, un ripensamento tutti e due, tutti e due, molti dicono un po' strano che Salvini, però quelli che dicono un po' strano che Salvini voglia tornare con Di Maio non hanno pensato perché il problema di Salvini è proprio quello dell'alleanza, che sarebbe perfetta con la Meloni, però verrebbe tacciato, già viene tacciato di essere un fascista, un dittatore, immaginatevi un'alleanza con la Meloni, che come secondo partito la Meloni sarebbe vicepresidente del Consiglio, quindi capite il problema che lui potrebbe avere in Italia e in Europa con un'opposizione che griderebbe al nuovo fascismo arrivato al potere, questo è il problema che ha Salvini e questo Zingaretti lo ha capito perfettamente. Intanto scatta anche l'allarme alla RAI, nella notte tra mercoledì, tra martedì e mercoledì, raccontano dal Nazareno, i 5 Stelle hanno fatto saltare l'accordo già chiuso sulla spartizione della nomina sul TV di Stato. È stato Luigi Di Maio a mettere il veto sul nome di Mario Orfeo alla direzione del Tg3, dicono. L'ex direttore generale di Viale Mazzini era destinato a sostituire Giuseppina Paterniti, attuale direttrice, lottizzata ai tempi del governo gialloverde dai grillini, che si erano assicurati sia il Tg1 che il Tg3, mentre il Tg2 era stato destinato al salviniano Gennaro San Giuliano. Cambia la maggioranza, le poltrone vanno ricalibrate e il PD aveva chiesto e apparentemente ottenuto di riprendersi il baluardo storico costituito dalla testata giornalistica di RAI3. Voi sapete che RAI3 era la televisione più a sinistra di tutte delle televisioni di Stato. Si diceva che RAI3 era comunista, non a caso. L'amministratore delegato Fabrizio Salini aveva condotto la lunga mediazione e tutti sembravano contenti del risultato, inclusa la Lega che può tenersi la decorativa poltrona del presidente RAI, Marcello Foe, perché invece niente. Di Maio ha detto che quello di Orfeo era un nome da vecchia RAI e non lo avrebbe fatto passare, spiegano in casa Demme. L'accordo è saltato. L'unico a loggiare sarà per ora Carlo Freccero, il cui contratto a RAI2, che ha portato in pochi mesi ad una strepitosa debacle negli ascolti, scade per legge in questi giorni. Però nel PD pensano che questo sia solo un pretesto. Allora, c'è una parte del PD che pensa che Di Maio stia cercando pretesti per far saltare tutto in maniera sottobanco senza che Grillo se ne accorga troppo. Mentre altri pensano che no, lui lo sta facendo solo per riaffermare la sua leadership, visto che è stato adesso legittimato per la prima volta da Grillo, vuole riaffermare che lui è il capo non solo del Movimento 5 Stelle, ma lui è il capo della coalizione di governo perché il suo movimento, il suo partito nel 2018 alle elezioni è quello che ha avuto più voti. Adesso lui dice che non c'entrano adesso i sondaggi che mi danno al 5, 6, 7, 10%, 15%. L'importante è che noi siamo al governo con i voti del 2018, quando il Movimento 5 Stelle era al 33%. Per alzare la tensione nella maggioranza, assestare un nuovo calcio negli stinchi agli alleati del PD e preparare il terreno a una crisi di governo con la quale Gigino si vendicherebbe finalmente dell'odiato Conte, mandandolo a spasso e offrirebbe a Salvini la prova d'amore, aprendo la strada alle elezioni. Quando? A fine gennaio per votare a marzo, dice un esponente Dem. Di Maio aspetta le elezioni regionali e tifa per la sconfitta di Bonaccini per mandarci alle urne nel momento di massima debolezza. A questo punto tutti potrebbero ringraziare nel centrodestra Luigi Di Maio, che potrebbe portare il Movimento verso destra o potrebbe portare proprio lui stesso, la sua persona, nel partito di Salvini. Questa è un'ipotesi che diventi Di Maio un leghista. Perché molti hanno capito che il vero leader del partito, cioè del movimento, è Grillo. Di Maio è diventato un subalterno per quanto super legittimato da Grillo. Di Maio lavora 25 ore al giorno senza di lui, non si può andare avanti, lui è il capo, non rompete le palle. Però lo dice, ma in realtà il capo politico del Movimento 5 Stelle, senza ombra di dubbio, non me ne voglia male Luigi Di Maio, ma è Beppe Grillo. È Beppe Grillo il capo politico. Infatti Grillo ha detto io, attenzione, io sarò più presente vicino Luigi Di Maio. Intanto Conte esalta il grande intuito politico di Beppe Grillo che ha scelto di stare con noi contro Salvini. Ma la minoranza Dem va all'attacco. Francesco Verducci chiede un congresso aperto per decidere tra l'alleanza strutturale con i grillini, perseguita da Bettini, Zingaretti e Orlando, e un PD che abbia l'ambizione di riunire tutto il centro-sinistra. E Matteo Orfini è transciante. Così ci stiamo riducendo ad un succedaneo del Movimento 5 Stelle, ansiosamente appesi ai video dell'ex comico Beppe Grillo. Beh, c'è chi dice che il PD sta diventando una succursale del Movimento 5 Stelle, ma la maggior parte dice che il Movimento 5 Stelle sta diventando una succursale del PD. Quindi un po' specchio riflesso, come dicevano i bambini, ti mando al prossimo video. Quindi io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, nella community potete partecipare a tanti sondaggi e potete anche commentarli. Siamo anche su Facebook Tele Italia Notizie, dove trovate tutti gli video che ci sono su YouTube e li potete assolutamente condividere con chiunque in internet, fuori da internet, in Facebook e da qualunque parte. Grazie per avermi ascoltato e buona giornata. Arrivederci.